Cari amici auguri, a chi non ha tutte le rotelle a posto, auguri a chi non si fa spegnere dagli altri, auguri a chi non fa speculazioni, ma viene guidato dai propri risultati, auguri a chi decide calcolando le conseguenze, auguri a chi non si lamenta, non fa domande e non riposa mai. Infine, naturalmente, voglio fare gli auguri anche a tutti gli esseri umani. Buone feste!